Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui Scarus96, innanzitutto iscrivetevi al canale e attivate la campanina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In questo in particolare mostro come ottenere il trofeo armatore potenziando l'aquila in Assassin's Creed 3. Buona visione! Bene, per fare ciò dovete regarvi alla tenuta di Evenport e andare sul pontile dove è ancorata l'aquila. Una volta qui, invece di interagire col signor Faulkner per attivare le missioni diciamo navali, dovete andare al tavolino che è accanto a lui dove è poggiato sopra un libro e interagire con esso. Una volta qui, saranno presenti tutti i vari potenziamenti che avrete sbloccato e per ottenere il trofeo non dovete far altro che comprarne uno a caso. E me che non si dica, avrete ottenuto il trofeo armatore. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile, iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace se non l'avete già fatto. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!